L'intesa tra Elena e Simone genera sospetti, fossi scintilla, mi preoccuperei, isola. L'affiatamento tra i due concorrenti dell'isola dei famosi Simone Barbato e Elena Morali è diventato argomento di discussione nel salotto di Barbara D'Urso, che oggi, nel suo pomeriggio 5, ha dato ai genitori del Mimo l'opportunità di esprimere un parere sulla simpatia del figlio nei confronti della ex pupa. La ragazza è fidanzata e promessa sposa del comico Scintilla. E proprio su questo dettaglio tutt'altro che trascurabile in vista di un ipotetico flir tra i due, si è aperto un dibattito durante il quale è arrivato un avvertimento molto esplicito.